Il celebre scrittore. Nella piccola stazione, Floro d'Avenza salì sul direttissimo e prese posto in uno scompartimento affollato. Gli altri viaggiatori guardarono un momento come un intruso a quell'uomo insaccherato di fango, inzuppato di pioggia, con l'ombrello grondante e i pantaloni rimboccati sulle caviglie, il quale poteva essere scambiato per un placido mercante di campagna. Prese posto in un angolino e soppiuse gli occhi, abbagliati dalla lampada dello scompartimento. Gli altri viaggiatori ripresero la conversazione che l'entrata del nuovo avvenuto aveva brevemente interrotto. Erano di quelli che attaccano discorso in treno e senza conoscersi si raccontano vita, morte e miracoli. Poi alle rispettive stazioni si salutano con molta effusione, protestandosi lieti di aver fatto la reciproca conoscenza. Si promettono amicizia eterna, formulano la speranza, anzi il fermo proposito, di rivedersi presto e con più comodo. Indi ognuno va per la propria strada e non si rivedono più. Io, diceva un signore anziano continuando un precedente discorso, mi ero fatto di voi un'idea del tutto diversa. Prima cosa vi immaginavo più vecchio. Sapete, il vostro nome circola da tanto tempo. Chi non è dell'ambiente, quando sente nominare una persona conosciuta, crede sempre che essa sia perlomeno del secolo scorso. E poi, interlo qui una squillante voce di donna, leggendo un libro ci si fa un po' l'idea di come deve essere l'autore. Di voi m'ero fatta l'idea di un uomo anziano e grasso. Non immaginavo mai che foste così giovane ed aspetto così brillante. I vostri romanzi rivelano un'esperienza di vita, tanta conoscenza dell'anima umana che danno dell'autore l'idea di un uomo d'età, quasi di un filosofo. Ma meglio così. Ora vi ammiro di più. Floro da Venza aprì pian pianino un occhio e senza darsene l'aria guardò incuriosito. Quelle frasi lusinghiera erano, rivolte dagli altri viaggiatori, a un giovane molto elegante e dall'aria estremamente fine e spirituale. Chi mai era quel bel giovane così interessante? Quello scrittore noto, il cui nome circolava da tempo, che scriveva libri pieni d'esperienza. Per quanto si scervellasse, Floro da Venza non riusciva a mettere un nome su quel volto esile di poeta. Vero è che gli faceva una vita piuttosto appartata e perciò non conosceva molti scrittori, ma di parecchio aveva visto la fotografia e l'immagine dello scrittore seduto davanti a lui non gli risvegliava alcun ricordo. Malgrado l'aria spirituale e intelligente, Floro da Venza suppose per un attimo che fosse uno dei molti dilettanti e geni incognito che circolano per il mondo, quelli che mandano agli scrittori illustri un libricino stampato a loro spese chiedendo un giudizio. Spesso questi libriccini hanno anche una tavola fuori testo con la fotografia dell'autore, che è di solito un bel tipo di poeta, dall'atteggiamento fiero di ribelle inseguitori di sogni e di chimere fuggenti. Tuttavia lì sarà parlato di nome che circolava. Vero è che anche questi geni in incognito hanno una cerchia entro la quale circola il loro nome. «Io, disse un altro viaggiatore, non sono molto competente di letteratura. Non sono un intenditore. Voi siete uno dei pochi scrittori che ho letto, e ora che vi ho conosciuto sento di amarvi ancora di più. Sapete, noi profani ci facciamo l'idea talvolta che uno scrittore sia un tipo da tavolino, scontroso. Voi invece siete una vivente smentita di questa idea. Avete tra l'altro un aspetto disportivo. Lo sono, disse il giovane e a quanto pareva illustre scrittore, passandosi tra i capelli una mano su cui scintillava uno splendido brillante. Quando malzo dal tavolino salto a cavallo. Faccio il canottaggio. Volo. Possibile, pensava intanto Floro d'Avenza, che costui, se è davvero un illustre scrittore, non mi conosca. Almeno attraverso le fotografie pubblicate da giornali. Vero è che da molti anni egli si ostinava a pubblicare sempre la stessa propria immagine a venticinque anni, che era leggermente diversa da ora che ne aveva cinquanta. Ma possibile che fosse tanto mutato? Intanto il giovine poeta continuava a sciorinare aforismi e pensieri arguti, riscuotendo il più gran successo da parte di quel pubblico di molto facile contentatura. Era un fuoco di fila di spiritosaggini, molte delle quali da anni note a Floro d'Avenza. Poi il giovane elegante si accinse a scendere, mormorando. Sono arrivato al mio eremo. Avete qui la vostra casa? gli fu chiesto. Un castello? fece egli, con nonculanza di gran signore, dove passo qualche mese ogni anno, quando ho bisogno di solitudine. Gli fu chiesto, ed egli concesse di buon grado qualche autografo. Poi egli baciò galantemente la mano alle signore, salutò tutti con incantevole affabilità e salto giù dal treno mentre questo si fermava a una stazioncina di campagna. Tutti si affollarono al finestrino salutando. Non avrei mai immaginato, fece una signora quando furono tornati a sedere e il treno si fu mosso, di conoscere stasera, in viaggio, Floro d'Avenza. Floro d'Avenza sussultò. Possibile! Quel tale si era spacciato per lui, ed egli che non se n'era accorto. Quei bravi viaggiatori credevano di aver parlato con lui. Avevano detto per lui tutti quei bei complimenti, ed egli era là, in un angolo, e nessuno immaginava chi fosse. Ebbe l'impulso di smascherare l'impostore, di dire «Loro d'Avenza sono io». Aspettò che gli si fosse calmata l'agitazione dovuta all'inaspettata rivelazione, proponendosi di metterle cose a posto con calma, possibilmente con una pacata ironia. Si sarebbe divertito alla sorpresa dei circostanti. Avrebbe giocato con essi come il gatto col topo. Avrebbe assaporato una specie di rivincita. Per prima cosa cercò in tasca una carta di riconoscimento. Beh, fece un viaggiatore che finora aveva attaciuto. «Vi dirò una cosa. Io lo trovavo simpatico come scrittore, ma adesso che l'ho conosciuto mi è diventato simpatico anche come uomo. Anche a me è riuscito molto simpatico», disse una signorina, «e voglio leggere i suoi libri». Floro da Venza aveva trovato il documento. Col petto gonfio d'emozione, data la sua natural timidezza, si preparò a fare il colpo di scena. Avrebbe detto «Scusate, signori, se mi permetto di interloquire nei vostri discorsi, ma sento che parlate di me». «Come sarebbe a dire?» gli avrebbero domandato. «Ma sì, ecco, guardate, è una tessera con fotografia». «No», questo era banale. Avrebbe detto «Dunque, signore, voi mi trovate simpatico adesso?» «No». Aveva trovato. Avrebbe detto «Mi duole di portare una nota stonata in questo coro di lodi per Floro da Venza, ma io non la penso come voi. Floro da Venza è mio intimo amico». I suoi pensieri furono interrotti dalla conversazione che si riaccese. «Che persona simpatica», disse un viaggiatore. «E com'è brillante e spigliato!» fece una signora. «Seducente!» osservò un altro. Floro da Venza aprì la bocca per smascherare l'impostore assente e convogliare verso di sé quel fiume di miele. «E com'è spiritoso!» fece un tale. «Inesauribile addirittura!» «Chi può immaginare che Floro da Venza sia io?» pensò Floro pregustando le gioie della sorpresa. Già, chi poteva immaginarlo? Chi poteva immaginare il famoso scrittore in quell'uomo triste e taciturno che se ne stava nell'angolo dello scompartimento? Floro da Venza guardò quella schiera di persone entusiaste di un lui che non era lui. Pensò alla propria aria pensierosa e triste, alla propria timidezza, alle scarpe infangate, ai calzoni rimboccati, all'ombrello gocciolante, alla giornata faticosa che gli imprimeva sul volto i segni della stanchezza. Rivide col pensiero l'altro, spigliato, spiritoso, giovane, elegante, seducente. Pensò ai capelli ondulati e lucidi di lui, alla camicia di seta, al castello. Ora i compagni di viaggio immaginavano un Floro da Venza nei saloni grandi e malinconici di un vecchio castello gentilizio, alle prese con un vecchio e bianco servitore devoto, davanti a una buona bottiglia, a un caminetto crepitante. Floro da Venza pensò che faceva più bella figura come l'altro, e tacque. Il treno correva nella notte, cullando i pensieri, i sogni, le fantasie, i ricordi dei viaggiatori.